Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma 104.5 FM Let's begin, let's begin Vai alla grande alle 2.50 Paolo Roberto Di Carlo sta per presentare i CAC che abbiamo qui, momento latineggiante del By Night Roma Oh, ebbene sì, perché loro sono, a parte delle conoscenze ormai sono navigati in By Night Roma si stanno anche un pochino morendo di freddo Abbiamo lui, cioè uno dei due è vestito da indiano apache da una coperta bianca addosso Buonasera, innanzitutto Buonasera, buonasera Buonasera, buonasera ragazzi Allora, questa sera presenteremo, diciamo, due pezzi Sì Oh, importante Innanzitutto, vogliamo sapere voi avete una casa di produzione che è la vostra, giusto? Sì, sì, SC Records Oh, come funziona? Ma come, ecco, se qualcuno vi vuole contattare, vuole produrre dei dischi, avete dei pezzi buoni? E allora, dipende Per questo bisogna contattare lui che si occupa delle produzioni audio Lui è, diciamo i nomi DJ Ciel Melodico Cioè, tutta la parte della produzione, sia di prezzi, dei costi, cose varie, me ne occupo io Ok Quindi, dipende dalla persona, dipende da cosa vuole fare Comunque, cercate i Sì e Sì su Facebook Sì e Sì e Sì o DJ Ciel Melodico o Gabriel Castro Molinari Gabriel Castro Molinari, quindi lo cercate, chiedete l'amicizia e parlate di questo Vi taglio per il momento, facciamo sentire il primo pezzo di questa serata che è E' innamorato Dunque, lo facciamo sentire e lo presentiamo come talento, appunto, come talenti di By Night Roma Loro sono i Sì e Sì e questo è il pezzo E' innamorato Radio Radio By Night Roma Radio By Night Roma Presenta i nuovi talenti della notte romana Sentiamo un po' in diretta BERNACOME con ilний Alexa Abinte Grazie Grazie Sì 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 Oh perché ti hai messo in più io ve lo consiglio perché è una storia un film più che un video È molto diciamo molto tragedia musicale ecco Oh è un po' da vedere Infatti c'è innamorato che ti rifai E hai messo in più che ti prende male Oh beh quindi Hai messo in più che è molto consigliato per chi si lascia appena con la ragazza Ti vuoi suicidare e ti tiri su Ultima cosa Dovete girare il prossimo video quindi state cercando Una ragazza Una figura femminile Quindi ragazzi all'ascolto se volete girare un video musicale I sì vi cercano L'importante è che siano maggiorenni E effettivi Non tra un po' maggiorenni ma maggiorenni Maggiorenni anche da un minuto da un giorno Vabbè diciottenni Contattate Castro Molinaro C&C E andate insomma potete girare il video Vi salutiamo ragazzi E vi salutiamo ascoltando il vostro secondo pezzo Che presenteremo sempre come appunto pezzo dei talenti di By Night Roma Questi sono i C&C con I Missing You Radio Radio By Night Roma Presenta i nuovi talenti della notte romana Si, si, questo è la notte Dì si è il melòdico sulcontinente I miss you I love you I miss you I miss you I miss you I love you I miss you I love you I miss you I love you I miss you I miss you I miss you I miss you I love you En mala ocasione perdí un amor Aromación y corazón De ti solo tu recuerdo Pensando que cada día yo me amanezco Mi amanezco Mi interior te lesava Al dia siguiente tu foto Giorrava la verdad Che io te espagnava E si manchia te pensava Passa il colpo a dar la pena tomava No olvidarte Pa' no continuare a che a pensarte Pa' no verte in cada parte La verdad che continua a amarte Mi corazón continua a esperarte Aunque si mi inventa e sabe che Nunca volveré a pensarte Che nunca volveré a tocarte Eccoli qua i CAC Le 2.55 Li abbiamo già ascoltati tante altre volte Li riavremo sicuramente Per il momento vi ringraziamo Grazie per essere stati qui ragazzi Grazie a voi Grazie Paolo Grazie a tutti gli ascoltatori E grazie a voi soprattutto By Night Radio Radio By Night Roma 104.5 Grazie a tutti i nostri spettatori